Un consiglio comunale straordinario sui temi dell'immigrazione visti i costanti arrivi nel nostro paese a chiederlo il consigliere di Forza Italia Mario Razzanelli Credo che non possa essere sottovalutato, avevamo chiesto al PD sin da dicembre un consiglio straordinario per parlare delle tematiche dell'immigrazione, ci è stato rifiutato dopo Parigi e quello che è successo lo abbiamo richiesto nuovamente, ci è stato nuovamente rifiutato Ma il cap Arbio Razzanelli ha visto che per statuto se più di otto consiglieri lo richiedono il consiglio tematico va fatto e ha contattato i colleghi in consiglio Tutta, praticamente direi tutta l'opposizione, congiuntamente, indipendentemente dalle sensibilità di ciascuno sul tema immigrazione è stata d'accordo di affrontare questo tema in consiglio comunale Giovedì sarà stabilita la data del consiglio e vista la differenza di posizione sull'argomento saranno diversi i punti da trattare, Forza Italia parte dalla sicurezza Abbiamo in via Pistoiese un immobile occupato da 800 immigrati è un tema serio o non è un tema serio? Noi chiediamo di discutere di immigrazione legata ai temi della sicurezza chiediamo più presenza delle forze dell'ordine sul territorio chiediamo di fare una discussione ampia sul progetto di costruzione della moschea